Dal giovane ingegnere sono molto felice che la Solesi, di cui faccio parte, abbia deciso di dare prova del suo impegno, aderendo al premio Ingenio Femminile. Il tema delle edizioni di quest'anno è perfettamente sposato dalla Solesi. Un'azienda sostenibile si traduce in una realtà che guarda i propri dipendenti come persone, poste al centro della produzione caratterizzate tutte da sommature diverse, traducibili in competenze variegate ed attitudini personali, la cui sinergia genera un lavoro di squadra efficiente. Un'azienda sostenibile si approccia al mercato in maniera resiliente attraverso un'organizzazione sociale ed economica che frontegge gli avviamenti in maniera dinamica e lavora in maniera sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, investendo ogni giorno nuove energie. Mi rendo orgogliosa sapere che insieme stiamo dando il nostro contributo affinché tutte le donne siano libere di scegliere il proprio percorso universitario, senza condizionamenti di nessuna natura, assicurandoci il valore che meritiamo anche in ambito tecnico. Grazie. Grazie. Grazie.